Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6 in apertura ai dati del bollettino dell'emergenza sanitaria nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Nel contesto di un indice RT che sta scendendo e si trova allo 0,87, resta difficile la situazione pandemica soprattutto all'interno degli ospedali abruzzesi dove i numeri fanno fatica a diminuire in maniera decisa e restano oltre la soglia d'allerta. Nell'ultimo bollettino regionale i pazienti ricoverati in area medica sono in aumento più 8 a quota 623 mentre c'è un lieve calo per quanto riguarda le terapie intensive dove si sono liberati due posti letto. Ora sono 83 quelli occupati, numero che resta sempre molto elevato. Poco più di 9.700 persone invece sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL in decremento di 43 unità rispetto a ieri. I nuovi positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore sono 348 emersi dall'analisi di 4.750 tamponi molecolari e 1.702 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività globale è del 5,4%. La provincia dove si registrano il maggior numero di nuovi positivi è quella di Chieti, 109, ma anche l'Aquilano e il Terramano stanno registrando numeri di nuovi contagi vicini alle tre cifre. Gli attualmente positivi sono in lieve flessione, meno 37 e complessivamente a 10.413. I decessi recenti sono due e portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 2.074. E proseguiamo con la pagina dedicata all'emergenza sanitaria parlando di vaccinazioni. È aperto oggi a Pescara al Palafiere di Via Tirino, il centro per le inoculazioni di massa. Oggi le prime 300 vaccinazioni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il Palafiere di Via Tirino a Pescara da oggi ospita il centro vaccinale, una grande struttura per rendere ancora più confortevole la vaccinazione delle persone e dei cittadini di Pescara, Assessore. Sì, è stata studiata proprio per rendere confortevole e accogliente l'attività della vaccinale che comunque crea anche qualche apprezzione nei confronti di chi la subisce, ma nello stesso tempo vogliamo dare un'accelerazione molto forte all'attività vaccinale che c'è stata finora perché il Comune di Pescara ha investito in questa struttura e nelle attività che si svolgeranno in quella struttura che ovviamente rappresenta un'attività sanitaria, quindi svolta dall'ASL. Ma il nostro compito è velocizzare al massimo questa attività affinché si raggiunga l'immunità di Greggia Pescara il prima possibile perché attraverso la vaccinazione si riprenderà quella che è la normalità o post-normalità che ovviamente dopo questa pandemia. Da qui ripartiranno ovviamente le relazioni, le attività commerciali, le attività sociali e familiari con le scuole e tutto ciò che ruota intorno all'uomo e il Comune di Pescara non può rimanere fermo e come non è rimasto fermo investendo in questa attività vitale per la città e ovviamente non solo per la città. Una grande struttura come questa di Via Tirino può ospitare centinaia di persone al giorno per effettuare queste vaccinazioni? Sì, sono 12 le postazioni, 15 ogni ora stimate dall'ASL, moltiplicate per 12 per 10 ore ad esempio in una giornata media riusciamo a fare 1.800 vaccini però ovviamente con la velocizzazione, quelli che sono i sincronismi, possono aumentare aumentando anche le ore, ovviamente si può pensare anche di farle di notte come molti medici danno la loro disponibilità di farla di notte arrivare anche a 2.500 vaccini o 3.000 addirittura. Ovviamente noi vogliamo farlo in breve tempo e quindi metteremo in campo tutto ciò che necessita per raggiungere questa immunizzazione della nostra città il prima possibile. Sessore, vogliamo anche precisare che per qualche giorno sarà ancora operativo anche l'altro centro vaccinale del Palabecci? Sì, c'è un doppio binario per qualche giorno perché ovviamente ci sono prenotazioni già effettuate soprattutto quelle del richiamo delle persone che sono state già, diciamo, al quale è già somministrata la prima dose e successivamente a questo doppio binario che durerà alcuni giorni, già da aprile, si concentrerà tutto lo sforzo della ASL direttamente qui al Palafiere di modo che ovviamente riusciamo a mettere il turbo famoso che serve per arrivare al traguardo dell'immunizzazione. È stato avvertito lungo gran parte della costa adriatica, dalle Marche alla Puglia e poi nell'interno fino alla Campania a Lazio il terremoto di magnitudo 5.6 avvenuto nel pomeriggio nel mare adriatico a circa 90 chilometri dal promontorio pugliese del Gargano e dalle isole Tremiti a 30 chilometri circa dall'isola croata di Lastovo. Il terremoto è avvenuto in un'area geologicamente molto complessa dove la microplacca adriatica si scontra con quella continentale informano dall'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia del quale vedete il sito internet. Una situazione da comprendere dicono gli esperti perché nella zona dell'epicentro non ci sono stati molti precedenti. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri ci sono state 9 repliche in un'ora tutte nella stessa zona del mare adriatico centrale. Numerose anche in Abruzzo le chiamate ai vigili del fuoco ma non sono stati segnalati danni a cose o persone. Restiamo a Pescara però ci occupiamo dell'emergenza sicurezza nel capoluogo adriatico. Un'emergenza che viene rilanciata e sostenuta dal vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che chiede anche ronde mobili e di controllare maggiormente oltre al centro anche la periferia. Vediamo. Consigliere Pettinari, nelle ultime settimane a Pescara ci sono stati furti spaccate tanto in centro quanto in periferia e lei parla di una città in stato di abbandono partendo dal centro ed arrivando poi ai quartieri periferici. Perché queste considerazioni così forti? Pescara non è una città sicura. Io voglio partire e raccogliere il grido d'allarme dei tanti commercianti e cittadini che non ce la fanno più, soprattutto del centro, le zone centrali e non solo, partendo dai furti e dalle spaccate delle ultime settimane. Non è una città sicura, non si può vivere in maniera tranquilla e sicura. Non solo, un focus lo voglio riaccendere sulle problematiche di Piazza Santa Caterina, Piazza Primo Maggio, area di risulta dove ogni giorno stazionano balordi, bivacchi, ma non solo, spaccio di droga continuo nelle aree centralissime della città tutte le ore del giorno e della notte. Ma nello specifico nell'area di risulta ci sono decine e decine di persone che importunano, esercitano anche violenza nei confronti dei cittadini che vanno a parcheggiare la macchina chiedendo soldi, spacciano droga e ricordiamo lì, si sono consumate reati gravissimi, quali stupri, violenze sensuali, non dobbiamo dimenticarlo, io lì ho già la mia soluzione in tasca. Ci sono vigili all'interno dei container, è bene che li facessero rimarinare all'interno, ma voglio vedere vigili, polizia, municipale, a pattugliare, a fare ronde nell'area di risulta per garantire la sicurezza, questa è la prima soluzione dell'area di risulta. Quando riguarda Piazza Santa Caterina, le zone limitrofe hanno messo un vigile fisso, un'agenda poliziale municipale, va bene, dovevano incrementarlo, ne servono altri per coprire tutta la zona, già si potrebbe risolvere il problema. Nelle periferie tornano prepotentemente le occupazioni abusive delle case popolari, Rancitendi, Fontanelle, Via Rigopiano, San Giuseppe, Zanni, Gesca, l'hanno tutti lo stesso problema. Concludo con un appello forte al prefetto dicendo che almeno nel ferro di cavallo e in via caduta di servizio servono unità fisse di polizia H24 perché sono le zone più problematiche, le zone più calde e spesso sentiamo i cosiddetti fuochi d'artificio. Chiediamoci a cosa servono e cosa significano i fuochi d'artificio frequenti nella città di Pescara. Adesso ci spostiamo a Roseto dove questa mattina sono stati esposti e presentati i lavori di recupero del pontile. L'opera vale un milione di euro e dovrebbe essere completata nel giro di sei mesi. Questo il cronoprogramma almeno annunciato dal sindaco di Girolamo che ha tutte le intenzioni di candidarsi nuovamente alla guida del comune. Il servizio è di Giuseppe Dintino. I pontili non sono opere qualsiasi che mettono insieme progettisti, imprese e il sindaco che inaugura. Sono opere che raccontano il mito, il mito dell'estate, il mito del mare, il mito della bellezza, della gioia di cui abbiamo bisogno in questa stagione di pandemia. Io questo pontile lo vorrei dedicare proprio al ritorno della normalità. Un milione di euro è il valore economico dei lavori per il recupero del pontile di Roseto degli Abruzzi. La copertura finanziaria era stata individuata dalla precedente giunta regionale, quella guida da Alfonso. E questo è un finanziamento che costa zero al popolo abruzzese. Vale la cifra che il sindaco ha potuto impegnare perché abbiamo pescato nei fondi del Cipe. Facciamo in quella stessa occasione il finanziamento del pontile di Roseto e del pontile di Francavilla al mare. Condizioni meteo permettendo, il sindaco di Girolamo è fiducioso di completare i lavori entro sei mesi. È un'opera che rilancerà Roseto, ha dichiarato il primo cittadino. I turisti torneranno copiosi secondo me anche la prossima estate, non troveranno la possibilità di passeggiare sul nostro pontile perché sarà temporaneamente bloccato, ma intanto vedranno un segno tangibile di fiducia nel futuro. Io sono convinto che a livello simbolico quest'opera ha una grande importanza, oltre che a livello economico. La presenza di D'Alfonso a Roseto ha una duplice valenza. Qui infatti dopo lo slittamento a causa Covid, in autunno ci saranno le elezioni amministrative e in ballo c'è il secondo mandato del sindaco di Girolamo. Il senatore su questo non si è sbilanciato, ma ha mandato un chiaro messaggio ai possibili rivali in seno al PD di Roseto. Non è tempo di farsi dispetti, ha detto D'Alfonso. Io mi auguro che Roseto, che ha un ruolo traino nella provincia di Teramo e in Abruzzo, non debba essere segnata da quel gioco tutto retroverso che è la dispettosità. Ci conferma che sarà lei il candidato del centrosinistra? Guardi, la politica è quanto mai fluida, il quadro politico è quanto mai in evoluzione. la mia ricandidatura è sul tavolo, finora non è messa in discussione dal mio partito, ma ripeto, poi di qui a settembre, di qui ad agosto in politica tutto può accadere. Vedete quanto è fluido il quadro politico in questa fase. Io vorrei completare un lavoro, spero che ci siano le condizioni naturalmente. Ritorniamo a Pescara, prima abbiamo parlato dell'emergenza sicurezza nelle periferie, e nelle periferie torniamo perché, come era stato annunciato in precedenza dal sindaco Carlo Masci, a fine giugno è previsto l'avvio del cantiere per l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano, che sono state sgomberate quasi quattro anni fa per problematiche di staticità degli edifici. Poi successivamente toccherà anche al ferro di cavallo. Vediamo il servizio. È notizia proprio di qualche ora fa che a fine giugno partiranno i lavori per la demolizione, per l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano. Sindaco, parte la riqualificazione del quartiere Rancitelli a Pescara? Sì, noi in quel quartiere stiamo investendo molto, nel senso che puntiamo all'abbattimento di diverse strutture che oggi costituiscono dei detrattori ambientali. Abbiamo ieri fatto una riunione con l'Ater e con la Regione, c'era il Presidente del Consiglio regionale Sospiri, c'erano i dirigenti dell'Ater, il Presidente dell'Ater e in più i dirigenti e gli assessori del Comune di Pescara. Proprio per pianificare l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano, l'Ater ci ha assicurato che le procedure termineranno entro giugno e subito dopo si potrà procedere all'abbattimento di quei tre corpi di fabbrica che oramai da diversi anni sono abbandonati al degrado e che costituiranno il primo tassello della rinascita di quella zona perché lì dopo l'abbattimento non ricostruiremo ma puntiamo a realizzare piazze, giardini, impianti sportivi e dopo l'abbattimento dei palazzi di Via Lago di Borgiano proseguiremo e quello sarà veramente il punto di svolta totale con l'abbattimento del ferro di cavallo e poi stiamo aspettando anche e anche ieri abbiamo sentito i proprietari dell'area dove sorgono le palazzine, i ruderi dei palazzi clerico e anche su questo stiamo andando avanti e tra breve anche lì ci sarà la trasformazione totale dell'area, insomma ci sono interventi importanti, definitivi, non ci occupiamo soltanto delle problematiche legate al Covid ma stiamo proseguendo con tutte le attività comunali, non ci siamo mai fermati perché vogliamo dare veramente risposte concrete ai cittadini di Pescara, risposte che aspettano da tanti anni, che sono state in evase e che finalmente quest'anno vedranno la loro conclusione. Giusto anche precisare Sindaco che nessuno poi resterà senza casa, chi avrà diritto avrà un nuovo alloggio? Ma questo è scontato, prima di abbattere si farà in modo che le persone che occupano quegli alloggi ne avranno altri, migliori sicuramente perché al ferro di cavallo c'è una condizione di degrado generale insopportabile e poi al posto del ferro di cavallo sorgerà un'edilizia nuova che sarà all'avanguardia perché noi puntiamo anche a fare progetti innovativi che si inseriscono perfettamente nella nuova condizione di abitazione post-covid perché abbiamo bisogno di spazi ampi, di balconi, di giardini, non si può vivere più in casa che sono dei loculi senza neanche degli spazi esterni. L'obiettivo è quello di ridare lustro all'area vestina e alle sue eccellenze e così si presenta l'associazione Siamo Penne. Andiamo a vedere insieme il servizio di Stefano Recanati. Presentata alla stampa la nuova associazione Siamo Penne. L'associazione è composta da un ampio gruppo eterogeneo di persone che hanno a cuore le sorti di penne dell'area vestina. Sette finora i tavoli di lavoro messi in piedi che vanno dalla sanità al sociale per arrivare al recovery con l'obiettivo principale di rilanciare quest'area che ormai da troppo tempo naviga nell'anonimato ma ancora vivo grazie alla resilienza di chi ha deciso di non abbandonare le sue radici. Il presidente di questa neonata associazione è Andrea Marrone, attualmente vicepresidente del Penne Calcio e già consigliere comunale nel 2010 nella giunta targata di Marco Berardino, esperienza per lui terminata in anticipo dopo le dimissioni. È un nuovo e ambizioso progetto che parte dall'aggregazione di un gruppo di persone eterogeneo nella composizione non accomunato da una ideologia partitica ma bensì accomunato dall'idea di progettare, di dare visione ad un'area che oggettivamente nemmeno è un'area nel tempo ha perso di centralità e di autorevolezza. L'obiettivo di questa associazione è quella di essere un incubatore, uno sviluppatore di idee progettuali ed è quella di essere facilitatore diciamo così nello sviluppo territoriale. Per il prossimo autunno sono previste le elezioni amministrative, è un pensiero questo di appoggiare con nuove idee anche una nuova squadra politica? Al momento l'associazione vive di vita propria quindi avrà una sua progettualità, svolgerà e porterà avanti le sue attività progettuali appunto al compimento degli obiettivi per i quali è nata. Poi se dovessero esserci delle possibilità e valuteremo che la possibilità di candidarsi o di ambire ad un ruolo amministrativo possa essere strumentale al raggiungimento degli obiettivi, ripeto lo valuteremo come associazione e vedremo, ma non è questo il fine ultimo. Tossiamo penne proprio perché significa essere penne, rappresentare penne, ma sì io amo penne. Noi stiamo lavorando su una progettazione a medio e lungo termine, abbiamo strutturato tavoli di lavori per argomenti diversi, proprio individuando le criticità della nostra città e cercando di poter migliorare il nostro territorio a tutto tondo. Torniamo nell'area metropolitana dove l'Udc di Pescara chiede lo stanziamento di ulteriori fondi da applicare ai buoni spesa da consegnare alle famiglie bisognose. Consigliere Pignori, da lei e dal consigliere Bernardino Fiorilli arriva una proposta, una richiesta all'amministrazione comunale e al sindaco Masci di ripristinare i buoni spesa per le famiglie bisognose, voi fate anche una proposta in tal senso? Sì, io e il collega Bernardino Fiorilli siamo stati in queste settimane, come penso anche gli altri consiglieri comunali e assessori, tempestate di richieste di telefonate per il ripristo di buoni spesa. La situazione è gravissima in città, in Italia e soprattutto prendendo spunto, le persone mi facevano notare che questi buoni vengono comunque, sono stati già erogati o stanno in via di emissione dai comuni di Mitropi, Francavilla, San Buceto o meglio San Giovanni Tiatino e altri comuni, quindi si chiedono la motivazione per cui il comune di Pescara non rimette questi buoni spesa, non dico per Pasqua perché ormai i tempi sono strettissimi, ma quantomeno in prossimità anche dopo le festività di Pasqua o Pasqua o non Pasqua, le persone hanno sempre bisogno di questi buoni spesa, per cui domani io e il collega Berardino Fiorilli proteggeremo una lettera al Sindaco Masci nel quale chiederemo il ripristino ovviamente di questi buoni spesa perché in questo momento storico le istituzioni devono essere ancora più vicine ai cittadini, già lo siamo di per sé durante gli anni quando in Italia si viveva bene, anzi meno bene ma sicuramente meglio di oggi che c'è la pandemia in atto, per cui dobbiamo intervenire necessariamente ancora di più, la nostra presenza deve essere ancora più capillare nel territorio, c'è bisogno di intervenire e il collega Berardino Fiorilli da sempre vicino alle periferie e le famiglie bisognose dalla città abbiamo in animo di fare questo. E ovviamente la proposta quale sarebbe? Perché tutti quanti dicono che il Comune di Pescara non ha soldi, la proposta potrebbe essere eventualmente di un mese, di non erogazione di stipendi da parte ovviamente del Comune nei confronti dei consiglieri, assessori, sindaci, vicesindaco e quant'altro e anche eventualmente se uno potesse anche per i dirigenti però ovviamente lì c'è l'aspetto ovviamente della volontarietà del dirigente nell'intervenire in questa cosa comunale. Ecco, io dico che già con questo sforzo si riuscibbe a recuperare dei bei soldini e però io ritengo che in bilancio siccome ormai sono 15 anni che vive in consiglio comunale i soldi ci sono, gli ho letti e quindi c'è solo la volanda politica di volerli fare. Ed ora siamo arrivati alla pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio e dalla serie B giornata di riposo, quella odierna per il Pescara che da domani tornerà a lavorare per preparare il match di venerdì contro il Pisa. Da quel momento inizierà il Tour de Force, il fine campionato anche se il destino dei Biancazzurri sembra segnato. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Massimo Volta lavora in gruppo, il difensore prelevato in prestito dal Benevento nel mercato invernale ha dovuto attendere di smaltire l'operazione di fine ottobre al tendine di Achille prima di raggiungere Pescara. Quasi cinque mesi di assenza, ora il giocatore è a disposizione di Grassadonia anche se è difficile pensarlo già in campo nelle prossime due partite con il Pisa venerdì all'Adriatico Cornacchia e a Monza nel lunedì di Pasquetta. Una giunta quando ormai la stagione appare compromessa. Quando il campionato riprenderà ci sarà il Tour de Force finale, otto partite in poco più di un mese con le due giornate a cavallo della festività pasquale e un turno infrasettimanale, quello del 20 aprile. Ultima giornata prevista per il 7 maggio. Per dare un senso a questo finale di stagione i Biancazzurri dovrebbero invertire sensibilmente la loro marcia, ma il problema è appunto il Pescara. Nel senso che se ancora la classifica sembra recuperabile perché sono sei punti da rimontare da quart'ultimo e quinto'ultimo posto, perché ci sono ancora gli sconti diretti da giocare con le squadre che occupano quelle posizioni, Cosenza e Reggiana, d'altro canto proprio il Pescara ha dimostrato di non avere la forza per fare la rimonta. I numeri impietosi dicono che i Biancazzurri hanno vinto 5 gare sulle 30 disputate, ora ne dovrebbero vincere almeno altre tante ma in sole otto partite. I numeri dicono poi che in casa il Pescara non vince dal 3 a 2 col Monza dello scorso 19 dicembre, un girone fa in pratica, che sempre in casa il Delfino è la squadra peggiore del campionato, 10 punti fatti contro i 12 di Entella e Cosenza, che quella del Delfino è la peggiore difesa insieme a quelle di Entella e Reggiana, 47 le reti subite, che l'attacco è il peggiore in assoluto, con le sole 22 reti segnate. La partita contro il Pisa dirà se il verdetto della retrocessione matematica si avvicinerà o se sarà lecito coltivare qualche residuo a speranza alla vigilia della doppia trasferta a Lombarda. Dopo il lunedì dell'Angelo al Brianteo contro il Monza affamato di punti perché in lotta per il secondo posto, il Pescara sarà di scena a Brescia, sabato 10 alle ore 14, contro l'undici di Clotet, che si è allontanato dalle zone pericolose e prova a rimettersi in corsa per un piazzamento playoff. Cosa che vuole fare anche un Frosinone in caduta libera è che per invertire la rotta si è affidato al pescarese Fabio Grosso, chiamato al posto di Sandro Nesta. Sono contentissimo di avere questa opportunità, ringrazio il Presidente e il Direttore. Per me il Frosinone è una piazza importante, una società seria, ha tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato di trovare nelle società in cui sono andato ad allenare e ripeto, sono contento di essere qui e mi auguro di fare un bel lavoro insieme a tutto il resto della squadra. Non ho voglia di rivalse, ho voglia di lavorare, ho tanta passione in quello che faccio e conosco i miei difetti ma conosco anche i miei pregi e quindi credo di poter insieme a questo gruppo fare un finale di stagione positivo ritrovando delle caratteristiche che sono determinanti per riuscire ad ottenere i risultati. Adesso la Serie C domani all'ora di pranzo. Il Teramo è impegnato al razza di Vibo Valencia contro i padroni di casa che non trovano il risultato pieno da più di un girone. Paci ritrova l'ASIC convocato ma che partirà dalla panchina e dovrebbe riproporre Pinzauti davanti al posto di Mungo. Vediamo il servizio. Teramo la prova vibonese dopo due stop consecutivi per la squadra. Di Massimo Paci c'è lo ostacolo calabrese contro una formazione che non vince addirittura dal 2 dicembre scorso 2 a 0 alla Casertana. Per intenderci dalla partita che precedeva la sfida di andata al Bonolis terminata in parità 2 a 2. Dunque più di un girone senza gioie per i vibonesi di Roselli che sono al quarto ultimo posto in graduatoria a quota 28 punti. Una situazione non facile ma della quale il Teramo deve approfittare perché più che guardarsi avanti ora il diavolo deve volgere lo sguardo all'indietro visto che Casertana e Palermo sono a ridosso dei biancorossi. Per cercare il blitz che darebbe nuova linfa alle speranze playoff Paci potrebbe confermare la squadra di domenica scorsa con il solo reinserimento di Pinzauti davanti al posto di Mungo per dare maggiore sostanza alla prima linea apparsa davvero troppo poco pericolosa. Non basterà solamente affidarsi agli attaccanti perché i tre a ridosso della punta saranno chiamati a dare sostegno alla fase avanzata. Ancora auto soprano di Matteo K, Berligea fuori anche Chiare Mateng così come i giovani Lombardi e Bellucci. Abbiamo fatto una buona settimana fisicamente siamo bene mentalmente pure veniamo da una sconfitta però quello capita ci sta e stiamo bene abbiamo voglia di giocare domani. Noi abbiamo le nostre motivazioni perché vogliamo vogliamo far bene in questo finale di stagione vogliamo vincere domani e credo che loro saranno comunque affamati come noi poi se loro saranno più bravi dovranno dimostrarlo sul campo come dice il direttore sportivo ma domani si vedrà. E' sbagliato pensare di ipotizzare che più o meno la formazione sarà quella delle ultime uscite con Pinzauti però punta centrale? guarda non ho fatto la formazione non lo so la formazione ultimamente sto riproponendo spesso una formazione simile e quindi probabilmente sulla falsariga domani sarà quella ma oggi voglio valutare perché prima di fare la formazione insomma voglio valutare altre cose quindi non è sicuro che sia quella la formazione. Ma io credo che le gare siano sempre indecifrabili quella di domani è una gara in cui ci sono due pretendenti alla vittoria credo con grande fame loro per un obiettivo e noi per un altro e quindi sarà una gara comunque indecifrabile a prescindere dagli score che abbiamo fatto fino ad oggi. Loro hanno fatto tanti pareggi significa che è una squadra che ha grande equilibrio è una squadra che sa difendere. Noi nella stessa maniera abbiamo una fase difensiva buona rispetto all'attacco e quindi sì i valori riportano alla fine ma ogni gara ha la sua storia. Teramo deve riuscire a centrare l'obiettivo se sarà bravo se sarà in grado di centrarlo che è l'obiettivo dei playoff. Non farei il calcolo sul Foggia su altri pretendenti. Ci sono ancora sei partite importanti. Per noi sarebbe un grandissimo risultato arrivare nei playoff. Dovremmo essere bravi perché non è niente di scontato. Dovremmo saper competere al massimo nella nostra caratura tecnica. Dovremmo avere equilibrio, maggiore equilibrio in certe partite e questo senza guardare chi ci sta davanti. Non la metterei sotto questo punto di vista. Vibonese che dovrà fare a meno di Berardi, convocato con la nazionale di San Marino, battuta giovedì 5 a 0 dall'Inghilterra nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Catarra che domani alle 20.45 se la vedrà in casa contro l'Ungheria. Roselli si affida a Plescia, 10 reti finora nel campionato e toccherà a Piacentini di Akite cercare di contenere l'attaccante della Vibonese e provare a strappare punti pesanti in una trasferta dalle mille insidie. Ancora calcio ma alla Serie D altri tre rinvii domani nel Girone F in campo notaresco Castelnuovo e Pineto mentre saltano gli impegni di Giulianova e Vastese. Ma dal 25 aprile stop alla stagione regolare per permettere di disputare i tanti recuperi accumulati. Cambia l'orario di inizio dei match con il cambio dell'orario e il passaggio all'ora legale si parte alle ore 15. Vediamo. Altre quattro giornate prima della sosta per permettere di disputare i tanti recuperi ancora in sospeso. L'approdo inevitabile in Serie D è la logica conseguenza di una situazione altrimenti impossibile da sbrogliare visti i rinvii che continuano a condizionare le giornate di campionato. Per i gironi che saranno oggetti di recupero in serie sarà pubblicato il calendario e quello del prosiegue del campionato. Mentre per quei raggruppamenti che non dovessero presentare tali problematiche l'attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato. Il Girone F dal 25 del prossimo mese dunque si ferma e cerca di mettersi al pari con gli appuntamenti anche perché già domani altri tre impegni in calendario non saranno disputati. In due di questi sarebbero state impegnate squadre abruzzesi. Il Giulianova non giocherà con il Porto Sant'Elpidio a causa dei contagi tra i marchigiani che hanno sette ragazzi fuori quota le prese con il Covid contemporaneamente. La squadra di Ottavio Palladini ha ripreso a lavorare a ranghi ridottissimi ma rimane comunque difficile svolgere la normale attività. Per questo non potrà recarsi Alfadini dove l'avrebbe attesa la formazione giallorossa che sembra aver trovato la strada giusta che può portare alla sarbezza. Situazione complicata anche in casa Vastese che dopo il match con l'Aprilia salta anche il match di domani al Civitelle di Agnone con i Granata che in settimana avrebbero dovuto recuperare col Pineto e non hanno potuto farlo per le condizioni meteorologiche avverse sull'impianto Alto Molisano. Insomma non solo Covid. L'altra gara rinviata è Fiuggi Vasto Girardi. Saranno dunque sei le partite in programma per la giornata numero 23. Il notaresco va ad Aprilia per cercare di continuare la rincorsa al Campobasso che domenica scorsa è stato bloccato sul pari dal Matese mentre gli uomini di Epifani riposavano a causa del rinvio col Monte Giorgio. Le due squadre hanno cinque punti di differenza ma il notaresco rispetto ai molisani ha una gara in meno e potenzialmente potrebbe arrivare a meno due. Il rosso-blu di Cudini hanno l'impegno interno insidioso contro la Cinzia Albalonga e saranno le prove generali dello scontro diretto di giovedì prima aprile quando alla Savini ci sarà la resa dei conti. Trasferta a Monte Giorgio per il Castelnuovo dopo il fasso-fasso di domenica contro il Castelfidardo. Il terzo posto a meno sette dalla capolista comunque rimane allo stato attuale un risultato straordinario per i nero-verdi neopromossi ma che tuttavia devono mettere fiene in cascina in attesa di un mese di aprile da far tremare i polsi. Giovedì il Matese poi trasferta a Campobasso altra trasferta a Notalesco e scontro diretto in salsa playoff tra le Muramiche con la Cinzia Albalonga. Peraltro Castelnuovo che dovrà fare a meno per due giornate di Massimo Loviso espulso a tempo scaduto domenica scorsa e squalificato come ferri anche lui per due turni. L'assenza del capocannoniere della squadra è un ostacolo in più per Di Fabio. Gara interna invece per il Pineto che riceve la visita del Tolentino, l'ex creminis di Minnozzi reduce dalla doppietta di Recanati e l'uomo in più dei Biancazzurri che devono risalire la china e che andranno incontro a una serie incredibile di impegni ravvicinati. La squadra di Ipomante ha disputato solo 14 match rispetto al resto delle formazioni che viaggiano dai 18 incontri di Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio fino ai 22 della Cinzia Albalonga. Andiamo a fronte a una squadra molto organizzata, una squadra che ha 4 anni che viene allenata la stessa della torre, la maggior parte dei giocatori sta a merito da tanto tempo, una squadra che sa quello che deve fare. Sarà una partita tosta perché affrontiamo un Tolentino che è molto aggressivo, nelle ultime partite dallo filo da torce a tante squadre, quindi gli amoli hanno battuto 4 a 0 in casa in campo basso, mercoledì nel recupero perdeva 2 a 0 e riuscita a pareggiare la partita, è una squadra che non mola mai, quindi domenica sarà una partita difficile, però come dico sempre sono, come dito della forza dei miei ragazzi, sicuramente sarà una buona partita. Con questo ultimo servizio del nostro Jacopo Forcella si chiude qui l'edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete in demand trovate i nostri servizi su Youtube, sul canale dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social, da parte mia l'augurio di una buona serata.